e bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi del non senso la vita di cielo oggi ho voluto introdurla con una canzone non sacra diciamo a sfondo sacro di un canto autore italiano insomma Sanremo non è molto lontano quindi siamo entrati un po' nel clima adesso scherzi a parte questa canzone introduce molto bene all'argomento che sicuramente questa sera ma sicuramente non soltanto in questa sera forse anche la prossima e forse non soltanto la prossima ci terrà un pochino con l'attenzione polarizzata questa è la sesta puntata e stiamo cominciando ad entrare dentro noi stessi lo abbiamo fatto per ora diciamo così dalle seguenti angolature abbiamo visto le ferite ricevute abbiamo visto come una certa immagine magari distorta di dio può aver influito non soltanto sulle nostre scelte di vita ma anche proprio sulla nostra più o meno vita di fede e la volta scorsa abbiamo un pochino visto la realtà distruttiva produttiva di male che è il peccato quindi quello che ho ricevuto e quello che ho fatto da questa sera cercheremo di fare uno step successivo cioè andare a scoprire alcune dinamiche alcune corde che ci toccano che ci muovono che dobbiamo assolutamente identificare perché altrimenti rimaniamo eternamente coinvolti dentro dinamiche distruttive da queste cose Gesù ci libera però è necessario che ci facciamo familiari con esse e impariamo a conoscerle questa canzone parla fondamentalmente di una persona in difficoltà che invoca aiuto anzitutto dice all'amore suo portami via cioè io chiaramente sicuramente il cantautore sicuramente può darsi anche che anche lui arrodesse a qualcuno di nostra conoscenza io dietro quell'amore mio invito tutti quanti a decodificare Gesù perché lui che ci porta via da tutte queste realtà quali sono queste realtà dai riflessi del passato perché torneranno gli scheletri che ci abbiamo nell'armario gli incubi che ci portiamo dietro dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria l'ipocondria è una delle paure psicologiche di cui sicuramente parleremo guardate che il tema delle paure che questa sera cominceremo ad affrontare è un tema assolutamente importante che stasera ho avuto l'attenzione proprio polarizzata verso questa puntata perché ho cominciato diciamo a interiorizzarla da un po' di tempo prima e anche su twitter il tweet che ho twittato questa sera insomma non so chi sta seguendo la diretta chi seguirà la riferita chi l'ha visto è intestato così dietro ogni problema c'è sempre una paura ed è Gesù che ci libera da ogni paura lo vedremo ecco in questa e nelle prossime puntate dalla convinzione di non essere abbastanza forte proseguo con la lettura del testo della canzone che è un po' introduttore dalla convinzione da quando cado contro un mostro più grande di me un mostro più grande di me chi è questo mostro più grande di noi quando cado contro un mostro più grande di me chi è adesso lo vedremo subito chi è questo mostro più grande di noi mostro cattivo che però muove le fila muove le file i fili diciamo così della nostra anima attraverso le leve distruttive delle paure purtroppo quindi portami via dai momenti da questi anni invadenti da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia quindi questa persona di cui parla questa canzone è arrivata a un punto fondamentale che magari ci arrivassimo tutti a un punto di saturazione sta male ha preso coscienza di stare male e chiede aiuto vedremo che andando avanti sì noi possiamo fare una bellissima diagnosi esistenziale anche della nostra condizione ma noi da soli non usciremo dai guai la battaglia contro il male noi non la possiamo vincere contro il male non si combatte da soli non si combatte da soli vedremo anche questo il testo prosegue tu portami via quando torna la paura non so più reagire ecco il tema della paura dai rimorsi degli errori che però continua a fare quindi ha dei rimorsi però non riesce a liberarsi da questa morsa distruttiva mentre lotto a denti stretti nascondendo un'amarezza dietro una bugia l'amarezza di cosa? l'amarezza di non uscire a uscire fuori da questa situazione di morte esistenziale tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa tra le mani proprio l'atteggiamento di chi sta come dire disperato non sa più a che santo votarsi cioè se tra tante via d'uscita mi domando quella giusta chissà dov'è chissà dov'è è imprevedibile qual è la via d'uscita? qual è la via giusta di uscita? è imprevedibile e allora portami via dai momenti da tutto il vuoto che sento dove niente potrà farmi più del male ovunque sia portami via amore mio questa spero che anche per Fabrizio Moro sia così deve diventare la nostra preghiera il nostro grido che si eleva al Signore perché se gli facciamo questo grido lui ci porterà via lo dobbiamo fare con tutto il cuore perché lui non vede l'ora di persone che ci dicono gli dicono portami via di qui non ce la faccio più aiutami ecco il senso del percorso che stiamo facendo è questo io sono proprio addolorato vi dico da sacerdote da parroco nel vedere pensiamo adesso all'ultima paura l'ho scritto anche nella lettera alla comunità del mercoledì delle ceneri in termini diciamo ho cercato di usare dei termini un pochino delicati dico ma la paura qui sta prendendo il sopravvento adesso questa paura di queste pandemie cioè non possiamo farci vincere dalla paura non possiamo non dobbiamo non dobbiamo non possiamo permettere che la paura ci tenga lontani dalla dalla chiesa c'è il 30% ma siamo stati in un riunione di predi questa mattina qualcuno e non ha torto diceva il 50% della gente che andava a messa non ci sta andando più allora le prove l'ho già detto in qualche altro intervento nei giorni scorsi sapete perché il nostro signore ci mette alla prova perché soltanto nella prova noi conosciamo chi siamo si conosce chi sei allora la prova fa uscire fuori quello che c'è perché la prova la supera chi è preparato chi non è preparato non la supera e che cosa esce fuori dalla prova che è impreparato cioè una persona che a causa della pandemia nonostante tutte le precauzioni cioè tutto si può dire alla chiesa italiana meno che non abbia proprio avuto una linea proprio ultra collaborativa che di più non si può insomma no anche troppo per certi se mi posso permettere naturalmente nei primi tempi dopo il lockdown troppo forse d'accordo però non discutiamo le decisioni insomma delle altre sfere quindi cioè se nonostante tutto questo la paura ti prende e tu non vai più in chiesa senza giudicare nessuno ti devi chiedere come mai la paura vince punto interrogativo come mai come mai ti prende questa paura allora ci introduciamo al tema con la sacra scrittura vediamo un attimo un punto fondamentalissimo questa sera del nuovo testamento la lettera agli ebrei che parla proprio di questi temi nei versetti 14 e 15 quindi riprendiamo passiamo da Fabrizio Moro la lettera agli ebrei chi lo sa se Fabrizio Moro sentirà staccate i chesi senza rabbia insomma chi lo sa insomma difficile però allora lettera agli ebrei poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne il sangue e la carne quindi ciò di cui siamo fatti aima aima tos in greco è sarx proprio carne e sangue quindi ciò che è proprio di questa vita mortale dice anche Cristo ne è divenuto partecipo attenzione la carne e il sangue la carne indica l'uomo nella sua condizione di debolezza quindi si sta dicendo che Cristo si è fatto uomo non nel peccato come noi lui non ha né contratto il peccato originale né ha fatto peccati ma ha assunto la condizione umana non quella che aveva Adamo prima del peccato originale quindi una condizione uuuh idilliaca no ma ha assunto una condizione umana simile alla nostra pur non avendo dentro di sé la legge del peccato come la chiama San Paolo Cristo ne è divenuto partecipe e perché ha fatto questo perché doveva andare a vincere il diavolo dove nella nostra condizione è una condizione di debolezza siamo in quaresima questa catechesi capita in quaresima è stato 40 giorni nel deserto per combatterlo e prenderlo a schiaffi con una natura come la nostra quindi provato dalla fame provato dalla sete d'accordo provato dalla solitudine non lo sappiamo io non mi azzardo insomma a dire io non lo so com'era il rapporto di Gesù con suo padre che non mi possa azzardare no dalla fame dalla sete però è sicuro insomma ne è divenuto partecipe attenzione per ridurre all'impotenza come mediante la morte proprio la morte chi colui che della morte ha il potere cioè il diavolo cioè il potere della morte che significa il potere di ucciderci il potere di farci male ma tanto d'accordo e non soltanto dal punto di vista fisico non soltanto ricordiamo che lo sfondo che guiderà l'ho detto la prima puntata e questa sera ne faremo ampie citazioni il nostro percorso in una parte quindi il percorso di guarigione è il testo di Don Fabio Rosini che ha la base della guarigione dell'emorroissa una che perdeva in continuazione sangue 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 quindi la vita che ti esce è perdere sangue perché il sangue è la vita quindi il signore della morte è il diavolo non solo perché ha introdotto attraverso il peccato originale la morte fisica si è certamente anche questo ma ha introdotto la morte in cui vivi tu e in cui sono vissuto io dico sono vissuto perché mi sembra per grazia di Dio adesso almeno con questa morte di non averci più niente a che fare e spero che anche per te possa essere il passato prossimo o remoto attenzione per ridurre all'impotenza colui che ha il potere della morte cioè il diavolo attenzione e liberare così quelli attenzione che per paura della morte phobo fanatu è in greco phobo phobo da dove viene fobia parleremo di tante fobie forse questa sera o la prossima le fobie la claustrofobia l'arachnofobia l'agorafobia è un'altra montagna che ce ne stanno queste sono alcune che mi vengono in mente liberare liberare quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita adesso le vediamo tutte quante le schiavitù le schiavitù sono le dinamiche distruttive che noi ci portiamo dietro e che sono alla base dei nostri comportamenti distruttivi che poi generano i peccati e il peccato generato che cosa produce? la morte l'abbiamo già visto una volta scorsa il peccato è morte 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 distruzione tristezza angoscia desolazione dove c'è il peccato? la vita non c'è e non ci può essere nessun motivo d'accordo? peccato va d'accordo con morte virtù va d'accordo con vita cioè ieri giovedì dopo le ceneri la liturgia della chiesa che ha una sapienza spettacolare qual è la prima parola che ci mette davanti dopo le ceneri? la prima lettura di ieri io pongo davanti a te la vita e il bene la morte e il male scegli la vita perché sia felice tu, tuo figlio la tua discendenza e tutti quanti perché se tu scegli il male sperimenterai la morte sarai infelice tu e seminerai infelicità intorno a te dovunque ti giri dovunque ti muovi questa è la grande menzogna che dovremo smascherare allora questo è il quadro attenzione quindi vuol dire che il diavolo non è vedremo anche al termine di questo diciamo filone che si apre questa sera la dinamica della tentazione perché il diavolo fa secchi tutti quanti il diavolo è terribile vedremo che l'unico modo per combattere il diavolo ci sono due sistemi solo due primo rivolgersi al signore e secondo scappare non parlarci mai sottrarsi alla sua azione non entrare mai in scontro diretto contro il diavolo perché se entri in scontro diretto hai perso d'accordo? se il signore ti mette in condizione di dover fare uno scontro diretto allora invoca che ti dà l'aiuto ma solo se ti ci mette lui tu non te ne andrà a cercare tu scappa perché col diavolo non si scherza io voglio fare le polemiche insomma tutte ste commedie che sono state fatte con la nuova versione italiana del Padre Nostro dico ma non è tanto difficile cioè non abbandono il termine greco senenches è quasi intraducibile in italiano d'accordo? per cui allora che Dio non ci induca in tentazione l'abbiamo sempre saputo da sempre d'accordo? da sempre ecco ma la nuova traduzione cosa dice? signore mio non mi lasciare da solo se viene il diavolo a tentarmi e questo è quello che dobbiamo chiedere attenzione non è che il signore ci lascia da soli siamo noi che da cretini mi si perdoni il termine cretini si può dire d'accordo? poi se non si potesse dire facciamo una variante degli abitanti dell'isola di Creta però a quello che so si può dire ecco cioè restiamo come degli stolti se tu combatti da solo contro il diavolo sei morto sei morto in partenza non c'è nessuna possibilità nessuno nessuno nessuna ok allora adesso entriamo in alcune dinamiche dietro la nostra vita c'è un vuoto pazzesco tutti ce l'abbiamo tutti quanti chi più e chi meno portami via da tutto il vuoto che sento qual è il vuoto il vuoto primordiale l'alimento di tutto quanto il male che c'è in noi è un vuoto d'amore perché abbiamo cominciato questo percorso la scoperta di me stesso perché tu chi sei non lo sai non lo sai non sai né chi sei e tanto meno tu sai chi sei per Dio non lo sai tu non hai la più valida idea di chi sei per Dio non lo sai il vuoto primordiale in cui purtroppo siamo nati è un vuoto di amore in realtà tutto quello che ci portiamo dietro tutto ma lo dico tutto niente escluso è sempre riconducibile a una mancata esperienza e percezione profonda dell'amore di Dio e dietro questa mancata percezione profonda dell'amore di Dio c'è sempre il Signore della morte sempre perché questa era stata la cosa principale che il Signore della morte ha inoculato ai nostri progenitori in occasione del peccato originale già nella prima domanda che ha fatto a Eva e che non avrebbe che cosa doveva fare doveva scappare subito subito non mettersi a parlare con lui perché la prima domanda del diavolo era una domanda avvelenata brutta anche se sembrava innocua è vero che il Signore vi ha detto che non potete mangiare di nessun albero questa è una domanda avvelenata è avvelenata cosa c'è dietro questa domanda la vogliamo cambiare vogliamo dire la verità che era nascosta dietro questa cosa dice bella roba che avete il vostro Dio e il vostro Signore va fa niente che brutta vita che state campando questo ci stava già questo e quella di maura risponde gli è andata risponde gli è andato ah no no possiamo fare tutto tranne tranne che una cosa tutto tranne che una cosa ho capito bravo bravo tutto tranne che una cosa tu sappi che quella che ti ha detto di non fare è la cosa più bella che esiste al mondo quindi cosa c'è dietro questa insinuazione che Dio non ti vuole bene posso fare tutto meno che una cosa la cosa più bella di tutti non la puoi fare allora una persona che mi ha fatto questo mi vuole bene Dio concorrente della felicità ma che gliene importa Dio di quello che fai eppure ci ha creduto e perché l'ha fatta quella cosa e dice fammi vedere ma sarà vero e ci ha creduto la vita di tutti gli esseri umani è così io non voglio insomma cioè su questo ne sono sicuro tu riconosci tutti gli esseri umani no ma non c'è nessun dubbio che sia così quindi già capiremo già cominciamo a dire il nostro percorso di guarigione funzionerà adesso intanto andiamo a fare tutte quante le diagnosi prepariamoci adesso perché Don Fabio è un maestro quindi adesso ci faranno una serie di cose non usciranno fuori tutti i colori però non si esce fuori da qui se non si va incontro all'abbraccio di Gesù le canzoni con cui cominciamo le puntate precedenti figlio al prodigio ti prego abbracciano Gesù se non c'è quell'abbraccio non c'è non c'è possibilità di uscire fuori da queste dinamiche distruttive allora Don Fabio che cosa fa nel suo libro ha delle sezioni d'accordo una si chiama sintomatologie ed una si chiama patologie a queste questa sera ci rivolgiamo siamo nella prima parte del suo libro che si chiama appunto la diagnosi io prendo qualcosa da lui perché insomma quando le ho viste a parte la penna straordinaria oltre che la lingua straordinaria ma c'è anche una grandissima capacità di introspezione e un dono della sintesi allora teniamo presente una cosa qui comincio una sorta di citazione noi siamo esseri umani quindi siamo esseri liberi quindi la chance che ci abbiamo di uscire fuori dai guai è l'esercizio della nostra libertà intesa in questo senso aprirsi o chiudersi all'amore e l'unica vera guarigione è aprirsi all'amore allora quali sono le nostre così le chiama desintonie dall'amore dov'è che il nostro amore sanguina dove facciamo esperienza di morte perché perdere sangue vuol dire morire ti esce la vita da dentro allora qui comincia una carrellata che dura quasi quattro pagine ok prendere appunti mi raccomando allora vediamo un pochettino qui dentro ci staranno moltissimi dei nostri atteggiamenti questi però sono ancora sintomi e non sono ancora mali ok sintomi vuol dire come dice la parola greca sintomo è da siumptoma siumpiptein quindi cadere insieme quindi coincidenza quindi qualcosa che capita insieme ad un'altra ok quindi in presenza del sintomo vuol dire che c'è una malattia quindi se tu hai qualcuno di questi sintomi c'è dietro la malattia ok quindi il sintomo non è ancora l'avere individuato la malattia perché bisogna andare a fare con un altro step dietro questi sintomi cioè la sequenza è questa qui malattia sintomo comportamento il comportamento generalmente è un peccato un comportamento cattivo quello che è alimentato da un sintomo balordo che ha la radice un male una malattia che vedremo tutte quante le malattie sono alimentate come il fuoco come la benzina per il fuoco dalla paura allora vediamo gli esempi di sintomatologie malate può capitare di non riuscire a dire dei no a chi ci circonda e di essere ingabbiati dal non potersi permettere di deludere nessuno questo sembra anche bontà è bravo non diceva niente no a nessuno questo non è amore però questo è schiavitù il non saper dire di no altre volte ci ci svende per un briciolo di riconoscimento altrui perché qualcuno ti stimi o perché qualcuno ti ami o magari ci interessa qualcosa partiamo in quarta e asfaltiamo le persone termine oggi molto molto di moda asfaltiamo le persone vuol dire che per ottenere quel qualcosa che mi fa che ci tengo passo sopra il cadavere della gente altri sono sempre scontenti di se stessi pensano di fare tutto male sono i crepuscolari quelli che hanno che leggono troppo le poesie di Foscolo e di Leopardi che sono bellissime d'accordo però sono espressioni diciamo così di ecco va bene intanto ci mettiamo insomma una piccola battuta poi c'è chi è tormentato dal proprio look narcisisticamente la moda guai guai eh guai se non si segue la moda ci stanno certi ragazzini tu vedi 20 ragazzini con 20 paia di scarpe tutti uguali io dico ma ci sarà uno di questi a cui sto paio di scarpe non gli piace no belle o brutte quella è la moda me le metto lo stesso quando io ero ragazzino alla fine degli anni 70 ancora si vedevano in giro i pantaloni a zampa d'elefante ma vi ricordate quant'erano chi c'ha qualche annetto pure più di me ma i pantaloni a zampa d'elefante ma non si possono guardare ma sono proprio brutti ma tutti quei pantaloni a zampa d'elefante capito tutti quando ero ragazzino io tutti col Moncler tutti invece coi pantaloni a sigaretta se c'hai i pantaloni a sigaretta ti prendevano un giro una settimana tutti per forza ma è andata un pochino di tempo che vanno dei modi io non so più molto pratico ma li vedo in giro i pantaloni con la vita bassa cioè se tu non c'hai un paio dei pantaloni che se ti pieghi un po' e se vedi quello che c'hai sotto non va bene maschio femmina che sei per forza così cosa c'è dietro questo questo è un sintomo questo qui perché non sei capace di sfuggire da questa logica poi può capitare di essere soggiogati dal piacere fisico o dalle compensazioni e non riuscire a reggere un minuto di frustrazione qui ci sono tutte quante le forme compulsive anche di sessualità pensiamo all'autoerotismo pensiamo alla bulimia chi magna 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 chi si sa ma magna diventa una balena cioè sappiamo tutti quanti che dietro del mangiare c'è una compensazione dietro del mangiare in maniera compulsiva cioè tu c'hai dei vuoti da affetto e mangi 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 colmi d'accordo anche da un punto di vista psicologico quindi il gustare l'interiorizzare cibo è proprio una compensazione di carenze di vuoti portami via dai momenti da questo vuoto che sento alcuni non si scrollano mai di dosso il passato 570.000 confessioni generali e manco bastano facciamo 571.000 ok altri altri sono possessivi e invadono gli spazi altrui le persone indiscrete le persone che fanno domande di dirette capito cioè che che invadono la sfera intima del prossimo ma chi ti autorizza a fare questa domanda vedremo adesso tra due tre puntate non lo so perché sicuramente dovremo poi rifocalizzare un'altra volta la finestra di Yoari che è fondamentale per capire un pochino noi stessi quindi quelli che entrano dentro l'io segreto intake capito cioè ma chi ti ha autorizzato di farmi questa domanda cioè si dovrebbe dire se non ti mancasse la carità ma come ti permetti di farmi questa domanda cioè chi te la dà sta confidenza altri ancora fanno tutto di testa hanno il cuore freddo sono le persone glaciali sono le persone iperrazionali super cerebrali poi c'è chi entra in competizione con chiunque la sua relazione è la competizione chiunque mi sta intorno è un potenziale rivale e io devo dimostrare di essere meglio di chi mi sta vicino chi deve sedurre chiunque gli capiti attivo chi attira per prendere il seduttore non soltanto il seduttore come dire il Don Giovanni d'accordo no c'è anche il seduttore dell'affetto c'è il seduttore dell'attenzione quelli che fanno le vittime si fanno compatire continuazione stanno sempre a piangersi addosso e desiderano qualcuno che gli pianga addosso sopra e che gli dica ma poverino ma poverina ma che tesso ma tutti attenti ma che hai fatto di male per meritarti tutto questo d'accordo poi c'è chi sta col freno a mano tirato non si lascia andare le persone che stanno ingessate come dire incapsulate impacciate tirate poi alcuni non dimenticano i torti subiti e hanno i conti in sospeso col mondo ce l'hanno con mezzo mondo avvelenati proprio pieni di rancore di livore poi c'è chi parla male degli altri qualunque discorso faccia non sa dire quattro parole senza aver detto male di qualcuno e se tu glielo dici ah no ma io dico la verità io mica sono un ipocrita io dico la verità mica sono un ipocrita poi sarebbe interessante perché qui se avremo questo discorso facciamo 40 puntate cioè andare a vedere le giustificazioni di queste sintomatologie malate poi c'è chi non accetta critiche oh mi puoi dire io per carità nessuno è perfetto e ho tanti difetti poi gliene dici uno ah no questo assolutamente no tutto ma questo no però qualunque cosa gli dici è tutto ma questo no chi manipola i racconti per essere interessante alcuni si fanno i film mentali e vedono gli altri come dei mostri d'accordo cominciano a pensare che chi lo sa che cosa pensa quello che me sta vicino che cosa penserà di me e allora che penserà e dicono questo 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 pensa male di me questo mi vuole male cioè e cominciano a pensare che gli sta intorno pensa chissà cosa chissà quale cosa brutta d'accordo di non è vero sono film mentali sono cose che non stanno nella realtà poi ci sono quelli che non si sbilanciano e restano neutrali su tutto non prendono mai posizione mai quindi rimangono sempre out poi per altri è meglio schiattare che chiedere aiuto schiattano ma aiuto non lo chiedono né a Dio né al prossimo alcuni sono maschi alfa o femmine dominanti per cui tutto è autoaffermazione e competizione personalità come dire ultra leader sono quelle che poi in genere erano i meccanismi di dipendenza psicologica di idolatria o cose di questo genere mentre altri hanno vergogna di se stessi si vergognano di se stessi per nessun per nessun buon motivo c'è chi diventa una bestia se non succede quello che si aspetta e chi invece cerca di passare l'osservato dovunque e chi non si apre mai del tutto e chi invece deve sempre aprirsi non ce la fa ad ascoltare attacca a parlare e straparla e tessi persone logorroiche che non la piantano mai o che ti raccontano vita morte miracoli tutto quello che hanno fatto ecco io adesso mi vengono in mente tante cose ma non non voglio fare esempi che possano essere riconducibili alla mia attività sacerdotale ma quando reggo queste cose me le vedo tutte quante davanti tutte davanti queste sintomatologie ci sono quelli che non reggono negli scontri e se c'è attenzione vanno subito nel pallone per altri invece ogni arrabbiatura dura almeno una settimana c'è chi deve essere forte ed è terrorizzato dalla propria debolezza non si sente all'altezza della situazione poi ci sono coloro che evitano i confronti e si comportano dai pochi alcuni sfoderano i propri successi e le abilità appena possono quindi sono quelli che fanno sempre notare in maniera diretta o indiretta quanto sono bravi quanti titoli ci hanno quanti laure ci hanno quante cose belle hanno fatto soprattutto i punti di vista poi c'è chi passa la vita ad evitare ogni possibile esclusione l'incubo è che io mi senta escluso alcuni debbono denigrare invece chiunque emerga intorno a loro se qualcuno è migliore di me via una montagna di fang addosso vedremo che questo qui dietro c'è il vizio capitale dell'invidia altri non si fidano di nessuno sono i diffidenti per antonomasia altri ancora si fidano di tutti sono gli ingenui acriticamente allora quattro pagine questo non è Rolfarina del mio sacco d'accordo non ne vedo ne dirette Don Leonardo questo è Don Fabio Don Fabio non è Don Leonardo ho letto il libro di Don Fabio ho detto che Don Fabio c'ha un'esperienza c'ha dieci anni più di me tra l'altro quindi straordinaria e come lui stesso nota questi sono solo alcuni esempi se volessimo ne potremmo fare altre tanti anzi due volte tanto ancora ma sono ancora tutti questi sintomi allora dietro le sintomatologie bisogna adesso andare a vedere e passo al capitolo seguente ricordo che il testo che sto seguendo si chiama l'arte di guarire le morroissa e il sentiero della vita sana per questa sezione ok l'autore è Don Fabio Rosini si trova anche la versione elettronica sia su Amazon per chi c'ha Kindle per chi usa Kindle e Android e sia su Apple Books per store per chi usa l'iPad o l'iPhone oppure vi fate arrivare il cartaceo per chi gli piace a casa si trova anche su Amazon io ho un libro che non è che consiglio d'è più anche perché lo seguirò in diversi momenti certo non solo questo però una parte del percorso come avevo già accennato nella prima puntata ci aiuterà non poco d'accordo io sono felicissimo quando posso anche come dire utilizzare i contributi dei miei confratelli sacerdoti e sono felicissimo di più quando posso parlare non bene ma ancora di più di qualcuno dei miei confratelli si parla male di nessuno e si è felici di parlare bene del prossimo d'accordo come dicevo fossero tutti profeti in Israele insomma Dio volesse fare adonare a tutti il suo spirito ecco questo allora nel capitolo seguente quelli erano sintomi i sintomi denotano delle patologie andiamo a vedere cosa c'è dietro questi sintomi allora anzitutto Don Fabio avverte dietro ogni sintomo c'è la paura tutte quante queste sintomatologie abbiamo detto sono sempre ferite ferite d'amore quindi sono alimentati da atti di non amore e producono incapacità di amare cioè si oppongono all'amore lo impediscono allora che colpi hai ricevuto che t'hanno fatto quale colpo c'è riprendo la citazione dietro la vergogna la mancanza di libertà la chiusura le violenze le possessività le dipendenze gli appetiti disordinati le timidezze i cuori freddi l'ansia di sedurre il fare i buffoni pensate quelli che stanno sempre a fare il buffone devono sempre farire il prossimo gli autodisprezzi le torture cervellotiche le aggressività o le insicurezze le balbuzie affettive sentite che bel termine di ogni genere le persone che non sanno amare bene non sanno trasmettere positività affetto sano un gesto gentile no la famosa carezza ecco di cui parlava San Giovanni XXIII il Papa Pietro e tutto il mondo contenti insomma no o quando Papa Francesco dice giustamente insomma parla della dell'importanza della tenerezza questo è un punto insomma che penso che non si possa discutere no l'amore di Dio nella nella sagra scrittura è accostato all'utero materno cioè il grembo della madre la madre è proprio il simbolo della tenerezza dell'affettività per l'autonomasia d'accordo ma mentre proprio il termine misericordia nella versione latina corcordis fa riferimento al cuore ma in ebraico le rachamim quindi le viscere di misericordia fanno proprio rechem è l'utero materno quindi Dio misericordioso vuol dire che Dio ha un cuore di madre e tra l'altro quello che ti fa l'utero ed è quello che ci farà se ce lo facciamo fare nell'utero nasce la vita quindi quella vita che tu hai perso sanguinando lui te la ridà come? attraverso il suo utero ricordiamo le parole di Gesù no? chi non rinasce da acqua e da spirito santo qui si tratta di rinascere sto ciclo di catechesi si chiama dal non senso alla vita di cielo non semplicemente una vitarella si abbiamo sistemato qualcosa divento un po' più buono risolvo qualche problema me passa un po' d'ansia il muso ce l'ho solo due volte alla settimana anziché 7 su 7 anziché dire 40 milioni di parolacce al mese se ne dico 3 mila no no questo 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 non ci serve d'accordo non è questo quello che l'obiettivo questa non è la vita di cielo cioè la vita di cielo non è una vitarella così grigia da signor rossi insomma no? stantia sì questo questo non lo posso fare perché forse questo è peccato però non mi piacerebbe farlo no no non è non è non è questo allora dietro ad ogni sintomo c'è la paura c'è sempre la paura perché il contrario dell'amore non è l'odio ma la paura la paura è quella frusta quel flaggello che pulsa interiormente e storce gli atteggiamenti rende aggressivi o remissivi impone rassicurazioni compensazioni possessività quando vi risentirete sta catechesi perché questa è da risentire d'accordo ma no perché l'ho fatta io perché se no mettatevi qualcosa rileggiamo tutta la carrellata di fango che abbiamo descritto prima e pensiamo la paura è quella frusta quel flaggello che pulsa interiormente storce gli atteggiamenti rende aggressivi o remissivi impone rassicurazioni compensazioni possessività detta ai tempi delle compulsioni e spegne e offerisce l'amore del nostro cuore ora vediamo a provare di spiegarci usando gli esempi di qui sopra quelli che abbiamo fatto prima che hanno solo il compito di nominare la strada e andiamo a vedere cominciamo a vedere un po' mi chiedo come mai non riesco ad emettere quei no che dovrei abbiamo visti no? come si chiama questa cosa? si chiama paura di deludere ecco perché c'è dietro la paura perché non riesco a dire dei no? perché ho paura paura di deludere se io a questo lo deludo questo non mi vuole più bene questo è il processo distruttivo sempre per paura non mi sbilancio dico mo se dico questa cosa poi questi la pensano diversamente quindi non mi vogliono più non mi vogliono più bene perché non mi apro del tutto? no 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 perché pensiamo anche alle persone che fanno le confessioni sacrifiche no? perché non perché non dicono tutte le cose? no 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 io mi vergogno ma chi lo sa poi il parro cosa pensa di me non mi saluta più oppure chi lo sa sto prete chi pensa che c'è davanti che c'è davanti un pervertito no 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 c'è paura perché non dice tutto perché non si apre del tutto tutti vogliono il padre spirituale 95% di esperienze di direzione spirituale lo dico con tanta tristezza tutto sono meno che direzione spirituale però supponiamo che ci sia una direzione spirituale vera ma tu ti apri del tutto nel mondo se volessimo tra tutte le persone che fanno la direzione spirituale un numero di quelle che si aprono proprio che sono proprio dei libri aperti certamente per quanto sta in loro per quanto conoscono libri aperti difficile cioè io non ho 50 anni di sacerdogio sono soltanto 16 quasi 17 non sono tantissimi però sicuro che su questo questo è un punto dolens perché mi fido di tutti per non fare il difficile per paura perché evito i confronti smusso le tensioni sono un ipocrita fingo perché ho paura che mi giudica perché ho paura che non mi accettano perché ho paura che dal confronto io poi ne esca fuori come dire disprezzato esce fuori di sono e quindi non mi vuole più un'altra cosa perché sono possessivo con le cose mie perché ho paura di perdere il controllo il controllo della situazione la sicurezza per questa stessa ansia sto col freno a mano tirato e non mi lascio andare sempre il controllo mi ossessiono per la mia incolumità anche fisica anche la paura compulsiva della pandemia sta qui perché non mi fido di nessuno perché io devo controllare la situazione controllo io ci penso io perché mi arrabbio facilmente perché c'è qualcuno che sfugge al mio controllo e non funziona secondo i miei schemi mentali perché divento una bestia se non va come penso lo stesso motivo ancora perché sono sempre scontento di me stesso perché ho paura di non essere perfetto ho paura di non essere perfetto attenzione il signore nel vangelo ci dice siate perfetti come perfetto il padre vostro celeste ma la perfezione evangelica a parte che è diversa dall'idea distorta di perfezione che abbiamo noi come se fossimo dei super meno impeccabili ma è un cammino ho paura di non essere perfetto quindi per questo mi vergogno che ti devi vergognare che ti devi vergognare ci sono persone che si vergognano anche delle cose come dire fisiologicamente non erano conosciute tantissime si vergognano delle situazioni normali cioè che tutti quanti gli esseri umani fanno ma che ti devi vergognare sei un uomo capito noi esseri umani purtroppo per esempio non voglio essere insomma andiamo tutti quanti al bagno no per forza c'è qualcuno che non va al bagno eh ma se io sto in mezzo a un sacco di gente non ci vado al bagno che fai che more cioè che ti devi vergognare purtroppo non è una cosa gratificante non è una cosa esaltante ma al comune mezzo gaudio siamo tutti esseri umani che dobbiamo fare fino a quando siamo in questo mondo questo è il paradiso non ci andremo più ma adesso è così mi vergogno non chiedo aiuto oh no no non chiedo aiuto che se se chiedo aiuto non sono perfetto cerco di passare inosservato c'è chi pensa che passare inosservato quindi io mi faccio gli affari miei sono proprio conto mio sia una forma di umiltà per carità di Dio la paura di non essere perfetto poi vedremo perché Don Fabio va oltre è una forma di superbia non accetto le critiche se qualcuno mi critica perché non riesco a superare il passato non ammetto di aver sbagliato non lo accetto mi fingo maturo e libero io sono libero io qua io là e quindi è lo stento anche questa cosa qui e devo risultare forte e mai debole ancora perché devo piacere e sedurre perché ho paura di non avere importanza devo essere importante agli occhi del prossimo allora che succede attacco a straparlare poi manipolo i racconti cioè li falsifico li ingigantisco ovviamente sono cose belle su di me oh diventano oppure cose che dirle mi fanno acquistare punti mazza questo che splendido che figo si diceva quando eravamo giovani tra noi ammazza quindi esageri capito manipoli faccio il maschio alfa il dominante entro in competizione denigro gli altri quando uno denigra gli altri è perché vuole avere l'importanza che ritiene attribuita agli altri scimmiotto i sentimenti mi pavoneggio con i miei successi e abilità oppure patisco i caratteri forti ho terrore delle omiliazioni mi svendo per non essere escluso mi faccio compatire paura di non avere importanza avanti perché devo darmi continue compensazioni le compensazioni sono quasi tutte sessuali sesso e gola lussuria e gola i vizi carnali perché ho paura di soffrire allora cado nelle dipendenze mentre mostrifico ogni possibile rischio esorcizzo il dolore cercando il piacere e mi fisso sulle cose con avidità imbarcandomi in troppe cose e probabilmente anche questa paura è alla radice dell'epopea dei miei dolori oh quanto ho sofferto mamma mia quanto ho sofferto quindi gigantisco e non dimentico un torto subito sta bello legato al dito perché mi ha vulnerato in un punto la paura di soffrire ancora lo step successivo è passare dalla paura ai vizi capitali allora la paura di deludere per esempio abbiamo già accennato è una schiavitù affettiva comunissima e ha lo stesso carburante della superbia vizio capitale ossia l'idea di un ego trionfante che non delude nessuno come salvezza dalla propria inconsistenza la paura di perdere il controllo alimenta l'avarizia che in realtà è ansia da insicurezza attenzione quello che vuole il controllo vuole la sicurezza vuole stare sicuro ma l'avarizia che accumula soldi su soldi su soldi omizio capitale perché li accumula perché i soldi sono la sicurezza ansia da insicurezza che risolvi sui deboli attraverso il possesso allora perché perché è importante capire queste cose cioè un avaro un avaro manifesto generalmente è oggetto di pubblico disprezzo ma quello è un avaraccio quello è un tirchi un pitoc un taccagno uno spilorcio è ancora una persona che soffre e non lo sa perché i vizi sono tutti risposte sbagliate a dei problemi che ci portiamo dietro ma perché Gesù è così misericordioso è ci ha amato così profondamente perché anche se le nostre scelte sono cattive quindi i nostri peccati chiamano in causa della nostra responsabilità però sono alimentati da questo magma il peccatore non sa di esserlo generalmente e non sa che va si sta avvelenando sta cercando delle risposte sbagliate che anziché risolvergli il problema gli eroamenteranno connessa connessa a questa paura di perdere il controllo e anche l'ira l'ira deve anche essere dalla difesa di un possesso che sia un oggetto un territorio un'idea un affetto un ruolo infatti se tu sei uno che si arrabbia spesso tu devi chiederti cosa stai difendendo cosa o chi la paura della frustrazione diventa la voracità della gola abbiamo già visto le sbagliate di compensazione che è ansia da pagamento e fomenta anche la lussuria che è ricerca autodistruttiva di piacere nell'ambito più specifico della sessualità questa paura innesca le dipendenze da cibo e da sesso cioè le persone che diventano obese o tutte quante le malattie psicologiche connesse al tema cibo che sono le due opposte la bulimia e l'anoressia e le perversioni sessuali o le forme di abuso di compulsione sessuale o proprio di smania di disordine proprio estremo di ricerca di sempre forme nuove o alternative di soddisfazione sono diventate dalla paura non è semplicemente sapete che il lussurioso o la lussuriosa vengono epitetati con termini appartenenti al mondo animale il maschio generalmente con la variante volgare dell'animale appartenente alla specie suina la donna ad una variante molto volgare dell'esponente di sesso femminile di quei bellissimi animali che sono i topolini con termini profondamente dispregiativi d'accordo e da un punto di vista oggettivo attenzione oggettivo gli atti lussuriosi sono ributtanti vomitevoli ma chi li pone in essere è una persona che sta male anche se non lo sa non sa di stare male e quasi certamente se non lo tocca la grazia non lo ammetterà mai ma è così la paura di non essere perfetti è un'altra strada maestra della superbia ed infatti è la stessa pasta della paura che abbiamo già visto di denudere solo che questa volta riguarda lo sguardo su di sé e porta a dare credito alle aspettative sul proprio ego ritenute più autentiche della realtà la paura precedente è strettamente collegata alla paura di non avere importanza che è la spina dorsale dell'orgoglio dell'affermazione del proprio ego che in realtà non è altro che paura di non essere proprio niente e cerca di sfuggire dall'orrore del proprio nulla che resta comunque lì il risolto perché se nulla ti senti nulla rimani e questa paura come la precedente si collega all'invidia per cui scattano confronti e competizioni e ci si dà e ci si dà l'identità tagliando le gambe agli altri infine la paura di soffrire è l'anima della ciglia cioè quell'atteggiamento per cui cerco di sottrarmi la panica e debito tutto ciò che mi minaccia scadendo i lati da pusillane mentre per contro ho sempre qualcosa di cui lamentarmi e decriminare gli affetti da lamentosi e brontolosi sono tutti figli della paura di soffrire e tutti quanti acidiosi allora ci fermiamo non è finito ancora questo argomento e lo riprenderemo la prossima volta però abbiamo visto proprio un quadro di sintomatologie e patologie assolutamente distruttive che alimentano come sorgenti velenose tutto quello che dentro ci fa stare male se la nostra vita non viene guarita dal Signore liberata da queste morti tu puoi andare a me cioè perché tante persone anche buone devote che vanno a messa che fanno il rosario che fanno tante cose belle non cambiano mai perché non vanno alla radice profonda perché intervenire qui ve l'ho già detto nella prima puntata costa dolore il Signore è il Signore che ci guarisce però già andare a guardare bene in faccia queste cose e poi lasciarci guarire dal Signore ragazzi è un dolore fecondo purtroppo pochi sono quelli che accettano di viverlo io spero che tutti quelli che ascolteranno queste piccole riflessioni siano tra quei pochi e finalmente comincino un po' a vivere ci vediamo se ti vuole la prossima settimana Dio vi benedica e la Madonna vi protege grazie a tutti